Siamo al termine di Trassevere Women Lecce, finita 3-0 per i padroni di casa. Vittoria che vi permette di rimanere saldi in testa della classifica. Oggi partita totalmente in controllo, avete subito pochissimo, siete soddisfatti? Personalmente molto, ma credo che siamo tutti soddisfatti. Più che altro portiamo la domenica, oggi è sabato, ma generalmente la domenica portiamo in campo quello che proviamo tutta la settimana. Quindi siamo molto soddisfatti, è stata una partita a tratti anche complicata, i contrasti erano molti, però penso che l'abbiamo gestita comunque bene. Alla fine 3-0 penso sia un attimo il risultato. Sei stata una delle migliori in campo, tu hai l'assist del secondo gol? Sì, corretto. Sei soddisfatta della tua prestazione? Molto, anche se credo che si possa sempre fare meglio. O almeno penso che si deve volere sempre di più. E voler far sempre meglio, altrimenti bisogna rimanere motivati tutta la settimana per riuscire a portare sempre più gamba, sempre meglio in campo. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.